Non dimenticatevi dal nido, della tua storia lontana, anche delle prove. Non dimenticate le piaghe, ma non vi indicate. Andate avanti a volare sulla speranza di un futuro grande. L'Aquila non dimentica il nido, ma vola alto. Volate alto, andate su. Si è rivolto così Papa Francesco agli albanesi che hanno riempito Piazza Madre Teresa a Tirana nell'Omelia della Messa Domenicale, secondo appuntamento pubblico del suo viaggio in Albania. Ha ricordato i martiri del recente passato, vittime di un sistema che negava Dio e impediva la libertà religiosa, escludendo Cristo e la Chiesa dalla storia del paese. Ha deposto spiritualmente il fiore della preghiera ai piedi del muro del cimitero di Scutari, dove si eseguivano le fucilazioni dei cattolici. Ha ringraziato gli albanesi per la loro testimonianza, il coraggio e la coerenza nella professione della fede. E poi ha spiegato di essere venuto per incoraggiarli a far crescere la speranza dentro di voi e intorno a voi, rafforzando una stagione di nuovo protagonismo missionario, sull'esempio della Beata Madre Teresa di Calcutta, umile e grande figlia dell'Albania. All'Angelus il Papa si è rivolto soprattutto ai giovani, invitandoli a dire no all'idolatria del denaro, no alla falsa libertà individualista, no alle dipendenze e alla violenza, e a dire invece sì alla cultura dell'incontro e della solidarietà, sia alla vita spesa con animo grande ma fedele nelle piccole cose. Così costruirete un'Albania migliore e un mondo migliore. Grazie a tutti.